Non poteva più fare a meno. Chi, il finanziere Benesti, a cura di Vubbi, Massimo aveva studiato presso una scuola confessionale, una delle più esclusive della città, e aveva accettato i dettati catechistici con il disinteresse di quasi tutti i suoi compagni. Ma quando si era trovato faccia a faccia con il Dio che gli prospettavano i maestri immateriali, dovette faticare molto per avere ragione dei pregiudizi che la sua religione gli aveva comunque inoculato. Ed ecco una domanda di cui Massimo non poteva più fare a meno. Gruppo esperienze. Domanda. Che cosa bisogna intendere per risurrezione della carne? Guida. Per risurrezione della carne l'uomo intende l'ascesa al cielo di tutto il corpo del Cristo. Secondo la Chiesa ci sarà il momento in cui i morti risorgeranno con tutto il loro corpo, così come il Cristo è risorto, con tutto il suo corpo, così come anche la Madonna è ascesa in cielo. Ma voi potete capire che questo non corrisponde alla realtà. Qual è l'immagine che poteva permettere una presa maggiore sulle masse ignoranti? Era l'immagine di un corpo che saliva verso il cielo e si sedeva alla destra del padre. Perché queste sono le immagini che scatenano determinate azioni che possono poi inglobare le masse e gli uomini ignoranti e fare in modo che chi detiene il potere abbia a disposizione esseri umani con menti soggiogate. Questo è ciò che è stato fatto. Manipolare le menti di persone semplici per voi ignoranti da parte di chi aveva il potere. Domanda Nonostante questo io e mio marito continuiamo ad andare a messa. Continuiamo a credere in Cristo e nel suo insegnamento. Guida Se per voi questa è una verità che va bene è giusto che voi facciate questo cammino e viviate alcuni atti ma dovete essere anche consapevoli che grandi errori sono stati fatti. Non è errato venerare il Cristo attenzione venerarlo come entità ma non come Dio non bisogna far sì che la sua immagine soffochi poi il Dio degli uomini, dei cieli, della terra e di tutto il Dio assoluto Questo è l'errore che spesso si fa venerare solo il Cristo comprendete? Questo avviene perché la concezione dell'uomo non è quella di avere un Dio monolite ma quella di un Dio che si riallaccia alla storia in cui l'uomo venerava parecchi dei e ancora non si è riusciti a trasformare questa sua visione della divinità tant'è vero che anche voi avete la Madonna bianca, nera e i vari santi Ecco quindi che adorate diversi dei ognuno di voi ha un santo cui si raccomanda invece di parlare direttamente con Dio con il Dio assoluto Perché dovete avere l'intercessione di un santo se voi siete figli di Dio? Ogni figlio parla al padre direttamente non chiama il fratello maggiore è questo l'errore che voi fate e che continuate a fare quindi non è sbagliato adorare o essere devoti dei vostri santi ma non dovete far sì che essi diventino l'unico vostro appiglio prima di arrivare a Dio voi potete arrivare direttamente a Dio perché Egli vi ascolta avete compreso?